Dopo il primo gol siamo andati un po' in difficoltà perché volevamo pareggiarla subito. Secondo me potevamo anche stare tranquilli perché tanto la partita era ancora lunga. Però va bene, tanto nelle partite succedono, succedono tutte le partite, si deve migliorare su quello e poi si va avanti. Non ci fermiamo qui. Siamo solo in inizio stagione, la stagione è ancora lunga, ci sono ancora tantissime partite e noi dobbiamo lavorare per migliorarle. È vero che l'anno scorso lì ho fatto una bella stagione però è passato, è stato un pubblico fantastico, una piazza bellissima però è passato. Quello che ho fatto prima ormai l'ho dimenticato, ora si va avanti, ora sono all'Ascoli, c'è un progetto con l'Ascoli, degli obiettivi con l'Ascoli, quindi vado avanti con l'Ascoli. Il Pescara per me è passato, domenica vado in campo con un atteggiamento per vincere la partita.